Avete ancora sei intensissimi minuti della vostra vita per poter porre delle domande al professor Di Stefano. Mi raccomando, approfittatene. Io volevo chiedere se è previsto o c'è almeno un tentativo di regolamentare il mercato dei futures, almeno per quanto riguarda le materie prime, il grano, la soia, tutta questa roba. Perché non dobbiamo dimenticare che sono quelle speculazioni che oltre a creare danni economici creano anche la fame, aumentano la fame in Africa e nei paesi del terzo mondo. E poi volevo chiedere un'altra cosa, invece ci hai detto quali sono i ministri che ti piacciono, vorrei sapere se c'è qualcuno che invece non ti ispira fiducia. Allora sui futures la cosa più rilevante per ora è la prospettiva di regolazione che arriva dagli Stati Uniti. Stanno facendo, sono diciamo alla fine del percorso di contrattazione per la modifica della regolamentazione sul mercato delle opzioni dei futures con delle regole che non sono molto distanti da quelle che venivano reclamate già all'inizio della crisi da alcuni, da una parte del movimento di riforma della finanza a livello mondiale. Quindi per esempio un singolo operatore non potrà avere più di un tot di posizione aperte, di scommessa sul mercato dei futures, non si potranno fare troppi contratti come accade ora, eccetera, eccetera. L'Europa invece su questa roba è un po' in ritardo e questo spiega secondo me anche questo assurdo fenomeno per cui sono circa sei mesi che c'è una differenza di quasi 20 dollari tra il petrolio che viene trattato a New York e quello che viene trattato a Londra, il Brent a Londra, che non è solo perché c'è stata la vicenda libica ma lì c'è proprio un'attività speculativa di grande peso. Ci vorrebbe l'agenzia internazionale, cioè è evidente che tutte queste operazioni fatte in modo frammentato tra l'Europa e gli Stati Uniti di regolazioni diverse non aiutano a mettere il guinzaglio a un sistema finanziario fuori controllo. Questo Frankenstein fuori di testa che è molto distruttivo e molto pericoloso. Quindi speriamo che in tempi ragionevoli ci possa fare. Tra i ministri non lo so, ero sinceramente un po' preoccupato dell'ipotesi che Ornaghi potesse essere il ministro della pubblica istruzione non perché è il rettore della cattolica ma perché si vocifera e si è sempre detto che sia abbastanza vicino all'area di CL. Il fatto che Ornaghi sia ai beni culturali invece che al ministro della pubblica istruzione mi sembra già un elemento positivo. Poi sicuramente non sarà tutta una compagine interessante, poi bisogna vedere e misurarla sui fatti concreti che verranno messi in campo. Già comunque io andando a cercare non ho ancora trovato i viceministri della parte dell'economia. Quindi vediamo cosa viene fuori su quel fronte. Sul governo si è peraltro appena espresso il Vaticano che ha detto bella squadra. Cioè parla come controcampo ormai il Vaticano. Bella squadra. Da prima è partita una roba ma perché volevo farti sentire in esclusiva se ancora non l'avete sentito e se questa cosa non la smette di roteare. È uscito ufficialmente il nuovo disco di Apicella. Di Apicella e Silvio Berlusconi. Si intitola Il vero amore e questo è un brano tutto per voi. E vabbè insomma, senta, no alla fine anche il premier, arriviamo, è un uomo e anche lei è un uomo, professore Di Stefano. Ha mai scritto lettere d'amore? Sì. Veramente? Sì. Ma tipo? Ma non mi ricordo, però sono convinto di averle scritte. Cioè si rende conto che le stanno ridendo in faccia? E vabbè. Ma dove le ha scritte? Dietro al sole 24 ore oppure ha preso un A4 normale? Un A4 normale. Va bene, parliamo dopo fuori onda visto che c'è un'ultima domanda. Sempre a proposito di crisi sistemica, ma l'incidenza sull'economia delle spese militari e dell'industria bellita? Ecco, puntini, puntini. Guarda, ne abbiamo parlato anche l'ultima volta al giorno delle locuste. È ovvio che quello è un punto fondamentale. In una situazione di crisi la prima cosa da fare, secondo me, è tagliare la spesa militare. Noi, nonostante c'era una bella inchiesta su Repubblica, che riprendeva tra l'altro un bellissimo libro che è uscito su difesa S.P.A., che credo sia uno dei più interessanti degli ultimi anni, un'inchiesta proprio sulle inefficienze anche del nostro sistema militare italiano, e quello è un settore sul quale bisogna usare la scura e non i tagli. A cominciare dalla famigerata storia, almeno io credo che è uno dei primi target, sul quale bisognerebbe far ripartire subito la campagna di abolire quella follia dei 131 cacciabombardieri con un impegno di spesa da 15 miliardi di euro nei prossimi anni, il famoso joint fighter di cui noi facciamo parte, con la scusa teorica che questo dovrebbe portare posti di lavoro in Italia nell'assemblaggio. Io credo che, a parte il fatto che queste cose si è sempre verificato che non accadono, non sono assolutamente vere, ma poi soprattutto quanti posti di lavoro creiamo con 15 miliardi di euro destinati a vere iniziative di intervento su problemi infrastrutturali. Pensate alla rete di telecomunicazioni che va fatta completamente nuova per fare la nuova rete a banda larga e si stima che ci siano bisogno di 10 miliardi. Lì sì che si creano posti di lavoro e in più si dà anche un importante servizio all'economia complessiva del sistema paese. Cara, tu sei un hangar e io il tuo joint fighter. Scriveva così? No, non scrivevo così. Delle cose populieriche? Vabbè, ma non mi ricordo. Erano gli anni Ottanta però. Erano gli anni Ottanta, sì forse. Eh sì, vabbè, giusto per chiudere il cerchio della serata. Fammi vedere che ore sono, sono le 22 e 26 minuti, abbiamo ancora due minuti di tempo e quindi ci sta l'ultima domandina finale prima di chiudere. Oh amore, i tuoi capelli sono mandorle e fiore. Allora, velocissimo, so che ci sono grane col beauty context. Possiamo sperare qualcosa di meglio dall'antitrust, dall'esperienza antitrust di Monti. Non penso di sì. Riguardo al beauty context delle frequenze televisive, non ce lo schiodiamo. No, poi sinceramente non ne sono così esperto. Ma cos'è? Il sistema di regolazione per quanto riguarda il mercato delle telecomunicazioni, ma sinceramente non mi sono addentrato a sufficienza dentro il capitolo specifico. Erano troppi problemi da altre parti per metterci la testa un attimo. Ma non credo che sia una delle priorità immediate rispetto al casino della finanza pubblica. La priorità è beccare quel maledetto che gli ha fatto pagare 600 euro la finestra. Il governo Monti lo sa e agirà in quel senso. Eh sì, va bene, va bene. Ascoltatori, grazie per essere venuti qua questa sera. Naturalmente noi adesso salutiamo tutti quelli che sono a casa, perché tra poco c'è il GR di Popolare Network e poi proseguono le trasmissioni di Radio Popolare. Ricordo a tutti quelli che ancora non sono abbonati, che all'interno della campagna abbonamenti è l'occasione giusta per farla e tra l'altro là c'è anche un banchetto con tanto di moduli. Per tutti gli altri il numero di telefono è 02392411. Il professor Di Stefano invece lo risentiamo in onda venerdì mattina alle 7.45 in punto, perché lì saremo proprio al momento cruciale di snodo della vicenda Class Action e nel frattempo salutando quelli che sono a casa e poi a voi vi salutiamo subito dopo, non vi preoccupate. Io chiedo a Davide se ci siamo e se possiamo chiudere e dare la linea alla pubblicità. Mi dice di sì? Quindi, professore? Buona serata e a risentirci venerdì. Grazie. Grazie a tutti.